Per me questa Summer School è stata fantastica, è stata una prima di cene veramente piena di spunti e ho incontrato professionisti, studenti, specialisti nel settore della sostenibilità. Sono riuscito a mettere mano e a capire diversi progetti, a svilupparne dei nostri con il gruppo di lavoro e sono davvero contento che stiamo riuscendo a rimanere in contatto anche oltre le due settimane passate a sera. Per me la Siena Summer School è stata un'opportunità di crescita, di scoperta e di aggregazione con persone con cui condividere ma soprattutto progettare il nostro futuro. Un salto di consapevolezza e un cambio di prospettiva, possiamo ancora farcela. Un'esperienza di complessità e di reticolarità, complessità tra le discipline, reticolarità tra le persone, complessità e reticolarità che sono entrambi due aspetti imprescindibili dello sviluppo sossegibile. La Siena Summer School è stata un'esperienza di grandissimo valore sia da un punto di vista professionale, accademico, sia da un punto di vista personale che mi ha spinto ulteriormente a percorrere la strada della sostenibilità con maggior consapevolezza e soprattutto, parola d'ordine del corso, radicalità. Ho trovato la Siena Summer School innovativa ed appassionante, capace di coinvolgere anche emotivamente sui temi della sostenibilità. La Summer School è stata mettersi in gioco, iniziare un viaggio per capire, confrontarsi, seminare e tornare a casa con un bagaglio più leggero per un futuro più sostenibile. Grazie Siena